Petrolio Shop è lo store perfetto per gli amanti della pallacanestro, con i migliori basketball brand come Nike, Jordan, Adidas, Buma e Under Armour. Grandissimo assortimento di canotte NBA e se sei amante del vintage potrai scegliere tra le jersey marcate Mitchell e Ness, comprese le immortali canotte dei Bulls di Michael Jordan e molte altre. Vieni a trovarci a Perugia o visita subito il nostro sito PetrolioShop.com per ordinare online con spedizione espressa.